20 anni di reclusione e la condanna chiesta per Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano, accusati di avere gravemente ferito la notte del 3 febbraio scorso a Roma, il giovane nuotatore Manuel Bortuzzo rimasto paralizzato. I due che hanno ammesso di avere sparato ma sostengono di avere colpito Bortuzzo per errore, sono stati accusati di tentato duplice omicidio, aggravato dalla premeditazione e dai futili motivi ed hanno chiesto il rito abbreviato che prevede in caso di condanna lo sconto di un terzo della pena. Secondo la ricostruzione degli inquirenti i due imputati reduci da una rissa in un vicino locale spararono tre colpi di arma da fuoco da distanza ravvicinata all'indirizzo di Manuel Bortuzzo e della sua fidanzata Martina Rossi che totalmente estranei alla rissa stavano prendendo le sigarette da un distributore automatico. Manuel Bortuzzo raggiunto da un proiettile alla schiena ha perso l'uso delle gambe, la sua fidanzata è rimasta miracolosamente illesa. Il legale del giovane nuotatore ha chiesto un risarcimento di 10 milioni di euro, il comune di Roma si è costituito parte civile.